Un anno fa, in una piazza San Pietro deserta, la grande invocazione di preghiera voluta da Papa Francesco nel periodo più buio della pandemia. Il servizio di Giovanni Battista Brunori. La benedizione del Papa in una piazza desolatamente vuota, il silenzio rotto dalle sirene delle ambulanze riportano la memoria al periodo più buio del lockdown, esattamente un anno fa. Immagini potenti della grande invocazione di Francesco per aprire uno squarcio di speranza quando nelle case e negli ospedali a prevalere era la paura di un nemico sconosciuto e invisibile. Il Papa si muove da solo sotto la pioggia, raggiunge il luogo dal quale rivolge il suo messaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Nessuno si salva da solo. Le immagini di quell'evento ora sono in un libro della libreria editrice vaticana, curato dal Dicastero Vaticano per la comunicazione, per riproporre l'attualità del messaggio papale sulla pandemia, perché si possa uscire migliori e non peggiori da questa prova. Ha radunato come mai in precedenza tutta l'umanità a pregare con il Papa. Infatti lui ce lo dice, non ero da solo, sentivo la presenza della gente. Come una grande carezza, la carezza non solo del Papa, la carezza della Chiesa, la carezza di Dio, che vuole accompagnare sempre l'istoria, anche specialmente nei momenti difficili.